L'assoluto avvia il processo di creazione inviando le informazioni relative al cosmo sotto forma di un complesso fascio vibratorio, vibrazione prima, contenente il completo insieme di settaggio che definiscono le caratteristiche che saranno peculiari per quel determinato cosmo. La vibrazione prima, che può essere perciò considerata sia il primo strumento dell'assoluto, sia il primo processo che viene in essere, ha la funzione principale di trasmettere alle materie che verranno impiegate per costruire il cosmo le informazioni che avvieranno i processi di formazione del cosmo nelle sue varie componenti e in particolare quei processi evolutivi che, partendo dalla materia indifferenziata, porteranno all'attivazione dei diversi processi che innescheranno la strutturazione del cosmo. In questa maniera si andranno via via determinando le condizioni ambientali affinché i processi evolutivi che agiranno in tutto l'ambiente circoscritto dal cosmo, in tutte le loro molteplici componenti, possano avvenire con continuità e fluidità mantenendo sempre e comunque l'unità interna del cosmo stesso, caratteristica necessaria e indispensabile affinché il cosmo possa continuare ad esistere. Gli archetipi permanenti, che come sappiamo sono fissi e invariabili, una sorta di imprescindibile legge assoluta di riferimento entro i parametri della quale l'evoluzione cosmica si va gradatamente strutturando, sono gli strumenti adoperati dalla vibrazione prima per mantenere entro le linee guida emanate dall'assoluto i processi evolutivi che si sviluppano all'interno del cosmo.